Come è scritta l'equazione di bilancio? Allora, la variazione di energia, ragazzi, ancora una volta l'energia è una grandezza conservativa, però attenzione, la derivata sostanziale non è zero. Perché non è zero? Perché ho i flussi diffusivi. Allora, i flussi diffusivi, come li ho chiamati, ragazzi? Quali sono i due flussi diffusivi che ho? Sono gli stessi che avevano i sistemi chiusi, quindi questo è uguale? Ho scritto Q meno L, attenzione però adesso, perché Q meno L, perché è sbagliato questa relazione? Tutto è sbagliata dimensionalmente, li trovate? È sbagliata dimensione, commissione seco, sto sempre applicando la commissione seco, sono scritto la sommatoria del cucuriccio. Però al di là di questo, non potete scrivere le questioni di bilancio in questo modo, perché? Perché lì, diciamo, nei sistemi chiusi la facevo per un tempo finito, e quindi facevo il delta di energia. Adesso, poiché tutto sta cambiando nel tempo e nello spazio, lo faccio per un istante di tempo questo bilancio, così come faccio sulla massa, per un secondo. Bene, quindi faccio il delta nel tempo unitario. Quindi, questo cosa rappresenta? Q è la quantità di energia in un tempo unitario, che sta entrando. Qui come si chiama? L'energia per unità di tempo, che entra come si chiama la? Potenza termina. Quindi, metterò un puntino qua sopra, a indicare non più la quantità di energia che entra nel mio sistema, quantità netta, quindi stiamo parlando di ciò che entra, meno ciò che esce. Quindi, ma parlerò di quantità di energia per unità di tempo, quindi è la potenza netta entrante. Ricordatevi che entrante, non stavo per dire tutto quello che esce, non lo considero, ma solo per ricordarmi la convenzione del segno. Quindi, è sempre, ricordatevi, tutto ciò che entra, meno tutto quello che esce. Lo stesso modo anche la L punto. Solo che la convenzione del segno qui è sempre la stessa che abbiamo utilizzato in stemi chiusi, e quindi è L punto come potenza meccanica. A questo punto è una potenza, quindi è il lavoro per unità di tempo. Ancora una volta, netta, dovrei aggiungere, se voglio ricordarmi la convenzione del segno, come potenza meccanica, netta, uscente, perché è tutto ciò che esce. Ora, questo è il nostro bilancio di prima legge per i sistemi aperti. Quindi, come possiamo scriverla? Semplicemente, sviluppiamo questa derivata sostanziale di energia. Adesso lo dobbiamo fare. Allora, scriviamo. Questa è la derivata del tempo delta teta, dell'integrale estesa al mio volume di controllo, di rho, quindi, il coro non lo sento. Sendo un coro di voce che mi dice rho per e in db, giusto? Poi devo mettere cosa? Cosa manca qui? Il flusso di energia. Quindi, qua, quando l'ho chiamato flusso phi di b, ovviamente c'è un flusso phi di e. Ed è facile, possiamo valutarlo, basta che faccio rho per e per 1, quindi a. Quindi scrivo qua sotto, accanto a questo, scriverò più l'integrale estesa alla mia superficie di controllo, di rho, per e, per la velocità v, per dA. Questo cosa sarà uguale? Sarà uguale a copunto, meno l'epunto. Il nostro testo elementi, che cosa fa? Fa un passaggio ulteriore, cioè parte direttamente dalla posizione successiva, che adesso partiremo, come equazione di bilancio. Tra l'altro, se andiamo a vedere, ci ritroviamo formalmente esattamente con i vostri elementi. Ma, attenzione, se voi avessi scritto adesso la posizione di bilancio, così come la formuliamo, voi non avreste capito il significato. Il motivo per cui c'ho una derivata partiale nel tempo e diciamo c'ho questo flusso. Invece adesso capite che dalla derivata sostanziale, che deriva, diciamo, questo aspetto, che io non posso considerare la variazione di energia solo nel tempo. Devo andare a considerare quello che entra e quello che esce, per fare la derivata sostanziale. E quindi, a questo punto, semplifichiamo questa relazione come? Mettendo, mettendo, diciamo, dentro cosa? L'ipotesi di monodimensionalità e flussi, n flussi discreti. Quindi, questo qua, diciamo, diventa la derivata nel tempo delta teta della rho, che si sa il mio volume di controllo, per rho, per e, in dv, resta lo stesso. Cioè, è il cosiddetto accumulo, quindi resta sempre la variazione dell'energia e del tempo all'interno del mio volume di controllo. Più, attenzione, qua c'è la sommatoria delle portate massiche uscenti per, a questo punto non è più, la B non è più unitaria, va bene? E non rappresenta proprio E, quindi per E. E quindi posso, anche se volete, far saltare un passaggio. Chi è? Allora, l'energia che sta entrando qua dentro, ragazzi, a quanto è uguale? L'hai piccolo, che entra qui. L'energia è somma di diverse aliquote. Quali sono le aliquote che andrò a considerare nel mio sistema? Vediamo un po'. Sicuramente l'energia interna. Va bene? E quella non c'è più. Entra con una certa velocità? E sì. Quindi che cosa devo mettere? Più un mezzo di al quadrato. E poi? La massa non c'è ovviamente perché sta fuori. Quindi è la massa per, qui c'è l'energia, per unità di massa, cinetica per unità di massa. Giusto? E poi ancora cosa c'è? La potenziale. Più la potenziale. Quindi? Più G. Mgz. Eh? L'energia è dovuta alla posizione. Mgz. Se mettete anche la massa, ovviamente, la massa la tengo per unità di massa e quindi, ovviamente, quindi qui dentro, che cosa devo mettere? Devo mettere U più Gz, più V quadro mezzi. Questo, ovviamente, in ogni U. Quindi attenzione a mettere un'unica U per tutti gli ingressi. No, ogni ingresso ha la sua velocità, la sua Z, la sua U. Però è la stessa lungo tutta la sezione interessata. Va bene? Ovviamente, diciamo, questo è soltanto ciò che entra, devo mettere meno ciò che esce, devo mettere soltanto anche, diciamo, quello, meno quello che entra. Quindi, meno la sommatoria del M punto in ingresso che moltiplica U più Gz più V quadro mezzi uguale a P punto meno L punto. C'è ancora una piccola cosa che posso fare, una piccola modifica da questa relazione. attenzione, perché il lavoro, noi l'abbiamo visto come il lavoro di, diciamo, di variazione di volume. Qui, di fatto, non ho la variazione di volume, il volume di controllo resta costante. Quali sono i lavori che posso scambiare in modo reversibile con questo sistema? Vediamo un attimo. Se io qui dentro, volessi vedere, guardiamolo qua, che poi c'è un clip più semplice, guardiamo con un solo ingresso per l'uscita. Secondo voi, qui, i lavori che l'ambiente compie sul sistema o che la sistema compie sull'ambiente, quali possono essere? Allora, secondo voi, questo lavoro che, diciamo, il fluido che sta qui compie sul sistema per entrare all'interno, ci sta o non ci sta? Certo, ci sta. Cioè, io per far entrare il fluido lo devo spingere con una certa pressione, quindi pressione per aria, forza, per lo spostamento che, diciamo, devo fare per portare tutto il fluido all'interno. Questo lavoro si chiama lavoro di pulsione. Va bene? Lavoro di pulsione. Allora, e ovviamente questo lavoro di pulsione ce l'ho in ingresso, ma ce l'ho anche in uscita. Ovviamente, in ingresso, il lavoro com'è? È compiuto dall'ambiente sul sistema, qui. Perché io devo spingere sul sistema per far entrare il fluido. Qui è il sistema che lo compie sull'ambiente. Quindi, una parte è positiva e un'altra parte è negativa. Va bene? Noi abbiamo messo positivo quando, ovviamente, è la parte uscente, è negativa la parte entrante. Va bene? Perché abbiamo preso il lavoro. Ovviamente è positivo quando il sistema è quello che lo compie sull'ambiente. Vogliamo scrivere la funzione della relazione? Scriviamo. Quanto è questo lavoro di pulsione. Lavoro è, ovviamente, abbiamo detto che scriviamo qua. Nelle punti di pulsione. E' uguale. Allora, facciamo prima il positivo. Quindi abbiamo destetto P per l'aria, quindi per, diciamo, ovviamente per A, facciamo già l'integrale, perché possiamo, abbiamo detto che, diciamo, le proprietà non variano lungo la sezione, quindi non devo mettere il D A. Se invece variassero, diciamo, lungo tutta la sezione, dovrei mettere P per D A e dovrei fare l'integrale. Quindi P per A è la nostra forza. Attenzione, per lo spostamento diventa un lavoro. Quanto è lo spostamento? La V resta la stessa lungo tutta la sezione. Quindi, se io faccio V per D theta è il mio spostamento. Ci siete? Allora, P per A per V per D theta, questo è che cos'è? È il lavoro di funzione. Ma attenzione, noi stiamo facendo un bilancio per l'unità di tempo. Quindi, in O per ogni secondo, devo andare a vedere questo lavoro a quanto è uguale. Qui devo fare ancora il limite per D theta che tende a zero di questo ovviamente questi due di theta se ne vanno quindi resta questo uguale a P per A per V. Bene. Ora, diciamo, se io guardo questa relazione posso dividere e moltiplicare per il volume specifico. P per V che moltiplica A per V diviso V ma A per V diviso V chi è? E' la portata. Quindi, questo è uguale ad M punto per P per V. Allora, il lavoro di funzione a questo punto sia in ingresso sia in uscita è uguale alla portata massica per la pressione per il volume specifico. E quindi posso modificare questa relazione inserendo questa ulteriore variabile attenzione perché questo è il lavoro sta qui dentro questo lavoro di funzione ma non è l'unico lavoro qual è l'altro lavoro che posso fare in effettivamente? Se io qui dentro ci metto una bella che succede che succede a questo punto? Quest'elica che fa? Muove giusto? Bene. Quindi oltre al lavoro di funzione c'è l'unico altro lavoro che posso comprare in modo reversibile che è il lavoro di elica allora quindi il mio L si splitta in due lavori lavoro di elica L punto con E più lavoro di funzione L punto P il primo dipende solo dalle proprietà termodinamiche in ingresso uscita il secondo cioè diciamo il secondo invece il primo è il lavoro di elica ovviamente dipende non è legato alle proprietà termodinamiche quindi non potrò fare altro che lasciarlo così come è allora è chiaro che per ogni ingresso e per ogni uscita io qui avrò N lavori di funzione quindi qua avrò sommatoria diciamo che cosa potrò scrivere questo qua allora innanzitutto scriviamoci qua che cosa c'ho qua cosa c'ho la sommatoria dell'M punto attenzione eh perché il lavoro di funzione come l'ho considerato positivo uscita quindi ho la sommatoria per le uscite U ovviamente l'l punto diciamo con P ho sommatoria per le uscite diciamo per le uscite U di M punto per P per V meno la sommatoria dell'M punto per P per V ovviamente per ogni ingresso I attenzione ai segni perché se no ragazzi vi imbrogliate va bene questo è il lavoro di funzione ovviamente per tutte le uscite e per tutti gli ingressi devo scrivere questo ora guardate un poco io per ogni uscita qua ho le stesse sommatorie uscita e ingresso qua c'ho un meno davanti quindi se ne porto da quest'altro lato questo è meno sommatoria e uscita più sommatoria se ne porto esatto lato i segni sono gli stessi quindi che cosa posso fare come posso riscrivere questa relazione sommando qua dentro anche cosa? sommando Pb va bene? quindi faccio riscriverò questa relazione la derivata nel tempo delta beta di dell'integrale si sono i miei punti di controllo di rho per e quindi di più la sommatoria estesa a tutte le massi uscenti di U più Pb più Gz V quadramezzi meno la sommatoria delle portate massiche che si sa tutti gli ingressi delle stesse quantità uguale a Q punto meno L punto con E L punto con P è sparito dal mio bilancio dove sta? sta qui dentro d'altronde io non me ne faccio niente quello mi serve a far muovere il fluido quindi l'unico lavoro che io riesco in qualche modo ad utilizzare è questo non è il lavoro di funzione quindi è giusto lasciare solo quello nell'equazione di bilancio visibile e tra l'altro questo che cosa rappresenta ragazzi? l'entapia e quindi sostituisco in questa relazione l'entapia allora a questo punto cosa faccio? metto tutto se potrei riscrivere questa relazione ricordandomi che questo Q che cosa rappresenta ragazzi? questa è la sommatoria del Q punto in ingresso meno la sommatoria delle Q punti in uscita giusto? e questo cosa rappresenta l con E la sommatoria di tutti i lavori L punto di elica in uscita meno la sommatoria di tutti i lavori di elica in ingresso se lo voglio riscrivere come equazione di bilancio questa relazione come si scrive adesso? riscriviamo allora mettiamo sommatoria del Q quindi tutto quello che entra sommatoria del Q ovviamente entra anche diciamo il lavoro di elica in ingresso perché per meno per meno fa più e quindi posso mettere accanto a questo che è un valore assoluto più la sommatoria dei lavori di elica in ingresso e questo facciamoci stare attenzione mi porto questo da quest'altro lato diventa di nuovo positivo va bene? quindi più la sommatoria del M punto in ingresso per H più GZ più V quadro mezzi questa cosa sarà uguale porto tutti i termini in uscita dall'altro lato dell'equazione quindi mi ritrovo le Q punto in uscita sommatoria delle potenze termiche di punto in uscita più la sommatoria dei lavori di elica di potenze di elica in uscita più ancora la sommatoria dell'M punto in uscita delle portate massiche in uscita per H più GZ più V quadro mezzi più ancora il termine di accumulo la derivata nel tempo di dell'integrale stesa al volume di controllo di Rho per E in del B questa è l'equazione di bilancio che trovate scritta così bella impacchettata all'interno del vostro testo e l'elemento scritta come bilancio ragazzi e non più come ovviamente non guardando alla genesi di questa relazione chiaro che adesso non avete condizioni di causa sapete perché ci sono queste cosa significano ognuno di questi termini ha un suo significato allora attenzione diciamo rispetto al bilancio che abbiamo visto già nei sistemi chiusi che cosa è cambiato nei sistemi chiusi aveva ancora tutto quello che entrava tutto quello che esceva termine di accumulo va bene allora intanto il termine di accumulo qui diciamo ce l'ho ancora all'interno del mio volume di controllo però attenzione lo devo fare come integrale quindi prima grosso prima grossa diciamo cambia secondo termine secondo la seconda problematica che prima non avevo è che diciamo ho dei flussi diffusivi sono questi flussi diffusivi sono flussi di energia entranti ed uscenti che non sono soltanto flussi di energia in realtà qui dentro c'è anche un altro pezzo c'è anche il lavoro non è solo un flusso diffusivo di energia ma dentro c'è anche il PV c'è anche il lavoro di pulsione quindi se io vi chiedo che cosa è questo termine se voi rispondete a questo semplicemente il flusso di energia rispondete una cosa sbagliata perché dentro c'è anche il lavoro di pulsione chiaro quindi il flusso di energia più il lavoro di pulsione cioè il contributo energetico che questo elemento sta portatando all'interno del vostro volume di controllo più il lavoro che esso compie sul sistema per entrare va bene? e lo stesso vale per la parte in uscita questa relazione la potete ancora di più semplificare in un caso molto semplice un ingresso un'uscita e ancora trovate una situazione ancora più semplice un ingresso un'uscita condizioni stazionarie vogliamo riscrivere da secondo questi tre ulteriori vincoli diciamo situazioni di semplificazione allora scriviamo che per un ingresso un'uscita io avrò sommatoria delle cui ingresso più sommatoria degli L punto con E ingresso più attenzione se c'è un solo ingresso una sola uscita all'equazione del bilancio cosa mi dice? in condizioni stazionarie l'ho già cancellata era la sommatoria ricordo che era la sommatoria delle portate massiche in ingresso uguale alla sommatoria delle portate massiche in uscita più l'integrale più la derivata nel tempo dell'integrale stessa volume di controllo lato di rho bene in condizioni stazionarie è un ingresso in uscita come si riscrive questa relazione ragazzi? condizioni stazionare cosa vuol dire? che le mie proprietà la rho cambia o non cambia nel tempo e quindi la derivata di un lato di una gradezza che non cambia nel tempo com'è quindi in condizioni stazionare scrivo che la sommatoria delle portate in ingresso è uguale alla sommatoria delle portate massiche in uscita ora se c'ho una portata massica in ingresso e una portata massica in uscita che cosa scrivo? che m punto in ingresso uguale a m punto in uscita cioè la portata massica in questo caso l'ingresso in uscita è la stessa giusto? in condizioni stazionare per forza quindi questa sarà uguale in condizioni stazionare una portata m punto per cui scriverò ancora questa relazione come m per h m punto perdono per h più gz più v quadro meno in uscita perdono questo qua è in ingresso uguale alla sommatoria delle q punto in uscita più sommatoria ancora una volta degli l punto con e in uscita più m punto per h più gz più v quadro mezzi tutto calcolato evidentemente solo sull'uscita più questa derivata ma abbiamo detto che si fa con le condizioni stazionare quindi la variazione dell'energia all'interno del mio volume di controllo com'è? sempre nulla in condizioni stazionare quindi questo se ne va quindi possiamo dire che l'equazione di bilancio nel caso in cui ho un ingresso e un'uscita e condizioni stazionali si modifica in questo modo che può essere scritto in una forma più compatta in modo ancora più semplice come ricordando sempre la convenzione del segno ingresso sto mettendo di nuovo l'ingresso me lo porto da quest'altro lato va bene sommatorio di L con E in ingresso meno sommatorio di L con E uguale a meno L con E quindi meno L con E rendendo la convenzione del segno uguale a M punto per delta H più GZ più V quadro dove attenzione questo delta questa variazione non è la variazione che avevamo prima la stessa variazione che avevo finale meno iniziale nel tempo negli sistemi chiusi ha tutto un altro significato che cosa è questo delta in condizioni stazionali un ingresso o un uscita che cosa rappresenta quella variazione delta cioè il valore che assume l'acqua qua meno il valore dell'acqua che viene assunto qua quindi questa diciamo il primo principio per sistemi aperti si riscrive in questo modo per un ingresso o un uscita in condizioni stazionarie in una forma che è molto simile a quella che avevamo trovato per i sistemi chiusi noi abbiamo delta U qua abbiamo delta E va bene attenzione però perché questa è in uscita meno iniziale se è formalmente simile a parte che è H e non è U va bene e c'è tutta l'energia perché c'è GZ e P quadro M che qui non c'è ma cambia completamente il significato questa variazione perché mentre nei sistemi chiusi era l'energia alla fine meno l'energia alla fine del tuo processo meno l'energia all'inizio del tuo processo qui invece hai l'energia più ovviamente il lavoro di funzione alla fine dell'uscita del tuo sistema meno quella all'ingresso questa è l'uscita meno l'ingresso li trovate? e guarda sommatoria questa che cos'è? M in uscita M punti in uscita meno l'ingresso quindi ho fatto M punto per delta quindi questa forma compatta del secondo principio diciamo del primo principio rassomiglia alla forma compatta diciamo del primo principio per sistemi chiusi ma ha un altro significato attenzione perché il primo principio per sistemi chiusi io lo vedevo come trasformazione nel tempo questo lo vedevo come trasformazione nello spazio cioè alla fine del mio percorso il fluido è andato da qua fino ad arrivare qua va bene? questa è una trasformazione che avviene nello spazio quindi vede uscita meno l'ingresso va bene? e lo stesso vale per Q punto delle punti in cui io prendo ovviamente tutto quello che sta entrando e che sta uscendo dai vari set su questo sistema va bene? grazie